L'associazione Siamo Taranto in supporto a Chima Ambiente Amiu come volontariato e periodicamente, molto frequentemente, realizza queste azioni di bonifica, di pulizia. Qui siamo in quella di Tramontone e vedete un volontario che davvero ha un saccone pieno di rifiuti. Ma che puzza, chissà che sa, forse un animale morto, non si sa. Puzza che la stavo portando subito. Sì, proprio l'odore e nauseabondo. E niente, io cerco di impiegare il tempo libero in questo modo, modo utile. Serve innanzitutto all'ambiente, serve di esempio per i più giovani e soprattutto per i maleducati. Certo, certo, serve per questo, sensibilizziamo anche i ragazzi, giovani. Vedete, non è un'esagerazione, ma questo sacco è carico, carico, carico. Fra poco si sfonda. Non si può dire com'è carico. Immagino dall'odore di cosa sia. È proprio un atto incivile per buttare in mezzo alla natura, in mezzo all'erba. Gli escrementi, i pappai. Gli escrementi saranno, è incredibile. Anche il lontore purtroppo depone in quella direzione. Viene una rabbia dentro. Vedere che sei costretto a convivere con queste persone qui, è questo. Lo lasciamo lì? Ecco, vedete, può sembrare un'esagerazione, ma non lo è. Ma vi posso assicurare che il sacco è pesantissimo, non pesante, e quindi è comprensibile lo sforzo e tanto più è pesante il pacco. È più utile fare questo.